Le doppie destre, i jet di due per volta, gli anelli di corda degli altri e le destre che non si rompono. Alessia e il suo potone di vinciatori continuano a non accorgersi di niente, mentre ci si prende il gioco del pubblico. Che poi è l'unico gioco che sempre riuscì di bene. È solo un commento possibile. Che figura di merda è. Mano.